Grazie Presidente, veramente fanno sorridere certi interventi, sembra che il Partito Democratico abbia governato questa città da Marino, forse si sono dimenticati di Peltroni, di tutti, no vabbè d'accordo, però si sono dimenticati di Peltroni, l'hanno rimosso, dei vari Rutelli e di tutti gli altri, vabbè d'accordo, visto che vogliono rimuovere tutto il debito che ha accumulato Roma Capitale prima del 2008, che stiamo parlando veramente nel debito di 13 miliardi, allora forse effettivamente rimuovono tutto il pregresso e fanno finta che sono arrivati da una certa data in poi. Detto questo, a me interessa sottolineare un aspetto, dopo l'ottimo intervento del Consigliere Diaco, che ovviamente sottoscrivo, però voglio sottolineare una cosa in particolare, questo regolamento che adesso è al Segretariato è stato frutto di un lavoro con le associazioni molto dettagliato, mi sta capitando di girare la città e di parlare con cittadini e associazioni e mi dicono, guarda che sul regolamento del Verde avete fatto veramente un ottimo lavoro, perché è veramente condiviso e fatto bene, io per questo voglio ringraziare l'assessore qui presente, perché oggettivamente è stato fatto un lavoro dettagliato con tutte le settimane, c'è stato un tavolo di lavoro con le associazioni, per cui è stato realmente condiviso e dunque questo è un lavoro dettagliato, fatto in modo con le associazioni e questo a me rende particolarmente contento del risultato che noi andremo a votare in quest'Aula con questo regolamento, per cui lo sapete, perché con le associazioni ci parlate anche voi, sapete che questo lavoro è stato un lavoro vero, sincero, profondo e noi adesso lo abbiamo presentato al Segretariato ed è in attesa dei vari pareri, per cui si tratta di attendere ancora poco, poi quest'Aula approverà il primo regolamento del verde di Roma capitale, che che ne possano dire i partiti dell'opposizione? Grazie. Grazie a lei consigliere, ci sono altri interventi in discussione?